E ci mancava, eh, modificare un po' di cose per quanto riguarda i sequestri dei dispositivi, eccetera, perché è tutto così carino, coccoloso, tutto così semplice, così poco articolato, che ci voleva un po' di cambiamento e soprattutto nella migliore delle tradizioni italiane, questo cambiamento doveva essere per forza, almeno così dicono dice uno dei miei due ospiti, in tempo. Stavo per dire, ne parliamo oggi dopo la sigla, ma va bene così con la sigla. Ciao, ciao a tutti, eccoci. Ciao. Ciao Mattia. Ciao Matteo. Allora, Mattia Epifani, che trovate online, forse il più grande esperto italiano e uno dei più grandi europei per quanto riguarda la computer forensic e soprattutto dei dispositivi mobili, ok, insegnante sans, uno bravo. D'altra parte, Giuseppe, lo conoscete, Giuseppe Vacciago, eh, socio in 42 Law Firm, eh, partner, eccetera. Loro due, allora, io oggi servo più o meno come uno snocciola a funghi, oggi non servo assolutamente a nulla, però era molto interessante. Non rinnegare il tuo passato di Digital Forester. No, no, io non rinnego assolutamente nulla, però l'idea di base era il, ci sono un po' di problematiche che volevo sviscerare, siete voi che le sapete un po' meglio. Mattia, fai tu un attimo di giro su che cosa sta succedendo, perché, qual è il problema, ti va? Sì, assolutamente, guarda, credo di aver seguito fin dall'inizio questa proposta di modifica del codice di procedura penale e sostanzialmente l'introduzione di un nuovo articolo in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici telematici, memorie digitali, dati, dati su cloud, corrispondenza informatica inviata e ricevuta. E fin da subito, diciamo, quando ho visto, beh, si muove qualcosa, quindi questo potrebbe essere un buon segno, no, diciamo, normare o provare a regolamentare in qualche modo la nostra, la mia attività. Poi quando ho letto, diciamo, la prima volta dei vari emendamenti, come hai detto tu… Mi blocco un secondo, la tua attività, la tua attività quando collabori con una parte o con le forze dell'ordine è quella del c'è un caso, vengono sequestrati dei dispositivi, questi dispositivi devono passare, quando tutto va bene e quando le cose non vengono fatte in modalità cinofallica, attraverso qualcuno che acquisisce il dispositivo in modalità forense, cioè fatto in modo di non invalidare la prova e soprattutto dando poi una copia forense in mano a seconda di come va il procedimento all'autorità, all'autorità e le parti, eccetera, a seconda di n cose. Però di base questo è il lavoro, che aveva una serie di zone grigie, che stanno diventando ancora più grigie, corretto? Sì, diciamo che poi lascio a Giuseppe la parte più strettamente, diciamo così, giuridica, cioè l'introduzione della necessità per il pubblico ministero di richiedere sostanzialmente al giudice per le indagini preliminari il decreto per il sequestro dei dispositivi, cosa che adesso non è perché, come forse non saprete o come Giuseppe ci può spiegare meglio, è il pubblico ministero che in autonomia durante le fasi di indagine può disporre in fase di perquisizione e sequestro l'acquisizione di dati di natura informatica, quindi sia dispositivi sia dati che siano memorizzati all'interno di sistemi in generale. Quindi questo è un aspetto, diciamo, più giuridico che poi lascio a Giuseppe. Beh aspetta, sì, giuridico, prima si partiva così dicendo a discrezione, adesso serve un pezzo di carta apposito per tirar fuori, è una procedura apposita per tirar fuori dati e per acquisirli, ok? La tua parte invece, che poi lasciamo a Giuseppe e vediamo che... Sì, la mia parte diciamo che quello che è, diciamo, critico o quello che mi sembra assolutamente fuori dai canoni del tempo, cioè di oggi, di questo decreto, dell'ultimo emendamento che trovate in rete, se vuoi poi ti mando il link, poi ti mando il link, sì. Ti mando il link così li puoi condividere. A parte tutto l'aspetto procedurale, quindi anche con dei tempi molto stretti, sui quali mi trovo anche, se vuoi, da cittadino d'accordo, ma so che poi si scontrano con i tempi della realtà, no? Quindi immagino che già si dispongono tempi tipo entro dieci giorni, entro cinque giorni, e questo secondo me rispetto alla realtà attuale è poco praticabile, ma questo è uno step che dovrebbe semmai portare a un miglioramento. Quello su cui invece sono molto critico è il fatto che, mentre si determina, e se vuoi anche in modo corretto, che la coppia forense si fa nel contraddittorio delle parti, e quindi dove tutti, come in realtà già di base adesso, possono fare le loro osservazioni, sostanzialmente si demanda l'attività di analisi a un'attività one shot, in cui bisogna estrarre quello che in quel momento appare essere rilevante per il procedimento, senza però tenere in considerazione, uno, gli aspetti di natura tecnica. Noi oggi acquisiamo e analizziamo dispositivi che hanno tipicamente l'ultima versione del sistema operativo, e l'ultimo meccanismo di protezione più avanzata. Quindi prima di potersi immaginare di estrarre tutti i dati completamente, e di conoscere quei sistemi per poterne fare un'analisi di dettaglio, e quindi rispondere a quello che è il quesito investigativo, o banalmente anche del giudice, non per forza del pubblico ministero, questo richiede tempo, e soprattutto quel tempo non dipende tanto dal singolo consulente, dipende dalla conoscenza comune, e quindi immaginare che l'analisi forense di un computer possa essere ridotta al, premo un bottone per fare la copia, poi premo un bottone per estrarre le chat, forse ha fatto completamente perdere il senso di quello che l'informatica forense è. Chiaro è, e poi mi fermo e vi lascio la parola, chiaro è che l'obiettivo principale dell'introduzione di questa specifica normativa parla delle conversazioni, quindi dei contenuti di natura comunicativa, perché si tende molto spesso a ridurre nel pensiero collettivo l'analisi forense all'analisi delle conversazioni. Chiaro è che le conversazioni sono il core di tantissime indagini, ma in realtà è l'intero ecosistema di un telefono, o di un computer, o di un account cloud, che permettono di fare un'investigazione. E aggiungo, e poi mi fermo, veramente, quando voi partite e state facendo un'attività di analisi, avete una conoscenza che è quella iniziale, poi man mano che si svolge questa attività di analisi, si scoprono cose, banalmente, faccio un esempio molto stupido, se io sento gli audio di un soggetto e quell'audio di quel soggetto si riferisce a Matteo Flora, chiamandolo Topolino, io non lo capisco subito, ho bisogno di comprendere il modo di comunicare di quel soggetto, e questo non può essere ridotto a prendo un software, tiro via le chat e ho finito, e tutto il resto si distrugge, perché arrivo all'ultimo punto, così lascio a Giuseppe la distruzione. Questa introduzione dell'articolo 254-3 prevede, al termine dell'ultimo grado di giudizio, la distruzione del duplicato informatico. E questo mi andrebbe benissimo, perché quello che abbiamo sempre insegnato finora è che ci deve essere una chain of custody originale e una chain of evidence di quello che viene prodotto in giudizio, cioè io devo poter sempre partire dalla coppia forense e dimostrare da dove viene l'informazione che sto producendo al giudice. Questo è perfetto, se non che si dice il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza, tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni, i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiedere la distruzione al giudice che ha risposto con valedato il sequestro, cioè il GIP. Quindi, quello che a me totalmente sfugge, e qui chiedo l'aiuto di Giuseppe, è, ma come fa un GIP, che è un giudice, a comprendere senza l'aiuto di un tecnico se quel duplicato informatico è ancora utile o no per le indagini. Perché io ho mille casi che potrei raccontare, non posso farlo ovviamente perché sono riservati, in cui dopo anni la stessa coppia forense, rianalizzata con la conoscenza di anni dopo, e di software di anni dopo, ha dato luce a variazioni di processi, si sono trovati colpevoli o si sono assolti innocenti. Quindi immaginare di prendere la copia e consentire anche solo che venga buttata via prima dell'ultimo grado di giudizio, secondo me è una follia che va contro qualunque standard internazionale della materia in cui io opero. Lasciamo a Giuseppe che poi deve scappare. Giuseppe. Allora, citando qualcuno che forse ricorderà solo Mattia, non Matteo, a parte il fatto Mattia che, diciamo, descrivere e associare Topolino a Matteo non è una buona idea, secondo me, anche perché non lo associerei a nessun animale simile al topo o a situazioni del genere per ovvi motivi di salvezza e di tutela, ma a netto di questo ti cito dicendo che sono d'accordo a metà con il mister, forse tu questo la puoi capire come citazione. No, nel senso che sono d'accordo su tutto quello che hai detto, tranne quest'ultimo punto. Cioè la distruzione, secondo me, è un passaggio in una norma che ritengo un po' confusa, in effetti, e forse un po', dicevo prima, la battuta vintage, perché forse ricorda momenti storici un po' diversi, però è molto importante invece la distruzione, perché prima di tutto avviene dopo la sentenza, quindi dopo che abbiamo accertato, o dopo la richiesta di archiviazione avvenuta con il decreto di archiviazione, quindi è una, diciamo, una fase finale, definitiva, oppure, sì, hai ragione, su richiesta dell'interessato, ma il giudice valuterà. Io ti faccio un esempio, abbiamo appena vissuto determinate ispezioni dove sono stati presi dei segreti industriali che nulla afferiscono con le indagini, e in quel caso, secondo me, è giusto per tutela, non soltanto a questo punto della privacy, ma anche della proprietà intellettuale, diciamo, distruggerli. Poi se il giudice, e qui risponde alla tua giusto quesito, non se la sente, perché è prematuro, semplicemente darà un diniego, cioè, come dire, chiedere lecito, rispondere a cortesia. Quindi vedo, cioè, diciamo, sono d'accordo invece su tutto quello che dici prima, nel senso che, secondo me, non combacia con le difficoltà operative di chi vive giorno per giorno, e tu sei, come ti ha detto Matteo, uno dei principali, diciamo, testimoni del panorama nazionale di chi vive proprio le indagini, le indagini più importanti, e questo non combacia la complessità delle indagini, i device che vengono utilizzati, qua si sta semplificando troppo. Voglio però dire, a beneficio di chi magari non la conosce, due parole, e poi ti rilascio la parola, la lascio a Matteo, per capire come funziona questa norma. Ci sono tre fasi del sequestro, dice l'articolo 254 ter, che appunto prevedono, prima di tutto, l'apprensione del dispositivo, quindi proprio l'apprensione fisica del dispositivo, e questo un po', diciamo, io spero che... Che non vuol dire che... Stai dicendo una cosa... Apprensione, vuol dire che lo prendono e lo portano via, corretto. Lo so. Poi alla fine sembro... Non lo capiscono. Prendono il dispositivo e lo portano via. Ah, penso. Ok. Poi c'è la duplicazione dei contenuti, ed è la seconda fase su cui proprio Mattia si concentra, quindi in quella fase si invitano le parti, termini molto brevi, io mi immagino appunto quanto sudore dovrà fare e fatica dovrà avere Mattia e tutti i consulenti che magari verranno contattati, se no sarà direttamente la procura, e c'è la duplicazione e poi c'è la selezione e il sequestro dei dati, quindi un'analisi e anche qua io mi sono trovato talvolta all'ultimo sequestro avevamo un tera di email e un tera e mezzo di cloud sequestrati. Faccio un po' fatica, ecco, a... Lì vengo incontro assolutamente a Mattia a pensare che sia facile praticamente sviluppare questa fase. Quindi questo è un po' quello che sta cercando di proporre la normativa anche elevando al giudice questa decisione secondo me anche in linea con un'altra norma che è un po' passata sotto silenzio che è anche quella dell'acquisizione dei file di log. Anche quella prima era potere del pubblico ministero anche in questo caso diamo, eleviamo ai GIP. Io credo che ci sia un elefante nella stanza e... Me lo spieghi questa cosa? Bravo. Il pubblico ministero è quello che mi accusa di qualcosa. Bravissimo. Il GIP è quello che inizia a istituire... Supervisiona come giudice le indagini preliminari. Infatti il giudice delle indagini preliminari che però poi sparisce al termine delle indagini preliminari. Di fatto verifica la dico malissimo che il pubblico ministero non faccia cose sbagliate. Allora permesso amici pubblici ministeri scusa verifica che non ci sia uno strapotere o uno sciabordo del... Ok con tutti gli apici possibili e immaginabili. Ogni processore penalista nel mondo in questo momento sta morendo. È anche un gattino. È anche un gattino però l'ho cercato di spiegare a beneficio di tutti e quindi questo è il rivolo del GIP. Grazie. Quindi anche i file di log quindi diciamo i famosi metadati che oggi si parla tanto per altri motivi di metadati ma un altro capitolo quindi e prevedono questa attività di maggiore supervisione nobile bello operativamente e spezzano la lancia a favore della procura ulteriore complicazioni in un mondo dove magari bisogna acquisire i metadati perché c'è di mezzo un sequestro di persona c'è di mezzo un'attività importante di traffico di stupefacenti quindi ulteriore complicazioni però sicuramente un aspetto molto importante a livello di tutela dell'indagato prego. domanda mi sembra che tutte queste modifiche queste alterazioni siano fatte a favore principalmente dell'indagato cioè nel senso maggiore un livello di tutela elevatissima dell'indagato c'è da capire se nell'interesse o meno della collettività e quali di questi due perché da quello che ho capito è la preselezione e non averli di tutti limita a posteriori la possibilità di andare a rianalizzare e scoprire che Cipirimerlo29 non abbiamo preso come parola chiave non abbiamo estratto perché nessuno chiamava Cipirimerlo29 ma in realtà era il vettore della cocaina in Colombia corretto in più non abbiamo preso alcune cose alcune applicazioni perché magari all'epoca non si potevano estrarre o le abbiamo estratte ma non siamo in grado di estrarle nel frattempo mi viene in mente EncroChat nel frattempo qualcuno dopo due mesi si sfonda il sistema di citrofattura ma quelle lì noi non le abbiamo più perché non le abbiamo recuperate e non possiamo tornareci indietro e il telefono lo abbiamo restituito e abbiamo restituito perché questo è il fondamentale terminata la copia e questo io sono d'accordo cioè il telefono è una proprietà di ognuno di noi fondamentale e capisco da un punto di vista della privacy io lo capisco completamente io vi garantisco che ho visto centinaia se non migliaia di telefoni non ho mai avuto un desiderio voyeristico di leggere nessuna chat che andasse fuori e tu lo sai questo lo so questo sta alla serietà della persona ma questo succede anche se fai la copia completa e poi selezioni cioè quando selezioni inevitabilmente ti imbatti in contenuti che non c'entrano e quindi io sono assolutamente d'accordo e su questo sono d'accordo anche con Giuseppe la distruzione è un passaggio che si può ottenere per via intermedie cioè voglio dire se tu mi chiedi il diritto di togliere dal contenuto della copia forense o dall'intero contenuto la conversazione che è intercorsa con la tua amante o il segreto industriale perché non c'entrano nulla con l'indagine si può arrivare a passaggi intermedi è la distruzione completa che un po' che un po' mi sfaventa e quindi veramente ridurre l'importanza di questo aspetto perché ormai la tecnologia non è solo usata è usata anche per delinquere questo è uno strumento che facilita il delinquente qualunque esso sia qualunque sia il reato perché come facilita la vita di tutti noi facilita anche chi commette un reato in molti casi quindi limitare il potere investigativo non sui contenuti ma legato al fatto con dei tempi fissare dei tempi è una è un'aberrazione secondo me è una cosa che va contro qualunque principio logico investigativo e anche di fare giustizia io penso non penso per forza all'indagato penso alle parti offese cioè se io fossi una parte offesa sì penso a tutti esatto ma io penso alla parte offese in questo momento da CTP mi è capitato tu vai lì in quel momento lì non lo sai cosa stai cercando lo capisci durante l'analisi durante lo svolgimento di tutta una serie di attività investigative che si sovrappongono e che poi vanno a trovare riscontro nel telefono nel dato in cloud nella mail che hai acquisito quindi non lo so io credo che creerà rallentamenti inutili e una riduzione di precisione delle informazioni questo come dici tu probabilmente andrà a vantaggio più delle persone indagate ma non è detto perché gli errori se vengono fatti possono anche colpire la persona indagata cioè quindi la scienza è scienza non è che si tira secondo me domanda cosa si può fare nel senso perché stiamo facendo tutto questo perché stiamo rompendo le scatole perché è un emendamento perché non è ancora passato corretto perché ci sarebbe da spingere chi nel senso chi dovrebbe vedere questo video a chi dobbiamo rompere i maroni per capire per parlarne di più e roba varia alla commissione giustizia che oggi credo domani vota vota questo emendamento e poi andrà alle camere io temo che abbiano fatto tantissime interlocuzioni sul tema dei Trojan giustissimo perché è un tema molto invasivo pure troppe però non dico a me ma a nessuno hanno chiesto ma lei nella sua vita quotidiana che fa le copie penso alle centinaia di PG che lo fanno in tutta Italia o i consulenti come me ma lei nella sua vita quotidiana quanto ci mette a fare una copia in media quanto ci mette ad analizzare un telefono un computer cioè se non lo chiedi e tu dici si fa one shot perché lo dico dall'alto va bene facciamo quello che possiamo però la precisione sarà inevitabilmente meno per me è come pensare di chiedere a un qualunque altro a un medico o a un qualunque altro soggetto che fa una valutazione guardi lei ha 24 ore per farla poi se dopo 48 ore la sua opinione è più precisa ma non la possiamo più usare perché nel frattempo abbiamo sequestrato quello ce l'ha aiao Giuseppe no dico solo una parola io in chiusura Mattia ripeto quello che noi possiamo fare ovviamente è di esprimere la nostra opinione come cittadini come esperti io dal punto di vista legale tu dal punto di vista tecnico credo che comunque mi permetto di dire che non è che è un provvedimento che secondo me è interessante perché rispetta con grande attenzione i diritti fondamentali dell'indagato e questo va considerato concordo assolutamente con Mattia e cerco davvero di far riflettere chi poi dovrà decidere sul fatto che non è molto aderente con quello che nei miei vent'anni di attività professionale mi confronto tutti i giorni non è aderente alle prassi forse non è aderente al problema cioè secondo me sottovaluta un elefante nella stanza che è il cloud e quindi questo è un tema su cui dobbiamo ulteriormente riflettere perché ci sono una serie di problemi applicativi dati dai device ma anche dati dai tipi di cloud che vengono utilizzati quindi questo è un altro aspetto che secondo me dovrebbe meritare più attenzione e invece io sul tema della distruzione ma giusto perché ero un po' di contraddittorio con Mattia ritengo che ammetto che ci sia sicuramente alcuni problemi ma il principio ma questo conviene anche tu Mattia sia giusto ecco perché ripeto non è sbagliato in sé la logica con cui viene fatto questo provvedimento le quattro fasi che ho spiegato prima secondo me è sbagliato il fatto che non ci sia stata come hai detto tu la dovuta interlocuzione forse con una serie di esperti magari non sicuramente io che magari potevano dare più elementi pratici e su questo ti seguo molto Mattia qualcosa da dire Mattia prima di dire un'ultima cosa sulla distruzione è per dire che se ci troviamo nel caso in cui Mattia viene perquisito perché ha scritto quel gran testa di Topolino di Matteo su Facebook è ovvio sono il primo a dirti che non c'è nessun'altra informazione afferente relativa al reato se non quella conversazione quindi sono d'accordissimo con te che ci sono molti casi anche nel mio quotidiano in cui l'informazione la trovi rapidamente ed è quella che serve e non serve e noi nel 99% nel proseguo del processo nessun altro toccherà nessun'altra informazione quindi va bene spero che i GIP siano in grado di comprendere è quello che devo fare non devo fare solo questa speranza di comprendere qual è il momento in cui devi conservarla e qual è il momento in cui la puoi buttare via questo è giusto per dire lo so è un video un po' strano perché abbiamo parlato di cose che magari molti di voi non conoscono eccetera vi metto i link in descrizione tutti per leggere anche un po' ma non vi metto solo la norma vi metto anche dei link che raccontano un po' più precisamente cosa sta succedendo eccetera l'idea di base è il quello che si chiama tech policy un po' cioè riuscire a dire occhio è giusto che come società civile ci muoviamo un po' di più nel raccontare delle cose che stanno avvenendo che potrebbero essere più discusse che di sicuro non fa bene a nessuno rimangano poco discusse anche in cose come queste dove è giusto già che mi scriveranno sotto dicendo ma che cosa diamine avete detto non ho capito niente nel caso nel caso siete arrivati fino in fondo la parola di oggi è fascetta potete scrivere fascetta sotto va bene grazie allora grazie mille a Giuseppe Vaciago grazie mille a Mattia Epifani li trovate tutti e due online Mattia lo trovate anche a fare tutti i corsi di SANS no? fai i corsi? sì sì assolutamente se non conoscete chi è SANS siete nel posto sbagliato grazie mille ad entrambi e vi prenoto già adesso per capire poi che cosa sta succedendo ci sono variazioni importanti va bene? grazie mille a tutti voi di essere stati ciao grazie ci vediamo alla prossima e state parati ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti